Un dato esclusiva del backstage della panchina con Martina e Tommaso naturalmente, dove vorremmo spiegare come e perché abbiamo incontrato Pippo Civati e grazie a chi, perché quelle due persone che vedete lì sono due rappresentanti di Progre, questa associazione studentesca o forse no, adesso ce lo spiegheranno, però prima di tutto io vorrei che dichiarassero in Mondovisione che loro erano quelli che andavano in giro per Bologna a correggere i manifesti della Lega Nord, o sbaglio? No, è così, è così, noi siamo dell'associazione Progre, che come ben detto tu è un'associazione fatta da studenti, in realtà adesso abbiamo la fortuna anche di dirla a voi, un'associazione che nel giro di un anno si è abbastanza allargata, infatti vorremmo in qualche modo svincolarci anche da quelle che sono le mura dell'Alma Mater Studiorum. Perché il Progre? Il Progre è perché sentivamo l'esigenza di provare prima di tutto a condividere anche con gli altri quello che è il nostro lavoro e soprattutto per iniziare anche a provare a ragionare in modo differente. Martina ha detto una cosa giustissima, l'idea, possiamo dire, un ringraziamento anche del perché stiamo facendo il Progre va secondo noi, questa cosa io a questa cosa tengo tantissimo, va alla Lega Nord, perché siamo qui oggi a parlare anche di immigrazione grazie alla Lega e vi spiego il perché, perché l'anno scorso in campagna elettorale, l'hai già detto in realtà un po' tu, la Lega Nord ha tappezzato Bologna di manifesti con una scritta enorme in cui c'era scritto, indovina chi viene per ultimo, questa era la domanda, e c'era un'immagine con delle persone tutte straniere in fila e per ultimo c'era un italiano, quindi si chiedeva, riguarda i servizi alla casa, alla sanità, al lavoro, a venire per ultimi sono sempre gli italiani, noi grazie a questo stimolo ci siamo un po' interrogati e ci siamo resi conto che le cose in realtà non stavano così e quindi i luoghi comuni non corrispondevano con i dati reali, ecco perché quindi abbiamo tappezzato anche noi Bologna di manifesti, dove scrivevamo la Lega Bugiarda o indovina chi viene per ultimo, forse avete sbagliato l'ordine nella fila, è stato bello perché poi anche i giornali locali, la Repubblica Bologna, anche il Corriere ci hanno ripreso questa campagna e poi da lì ci hanno contato altre persone e siamo qui oggi. La Lega vi ha mai risposto? Non ho capito, la Lega no, però posso dirti che in tutta la zona dove loro avevano i circoli ci hanno strappato i manifesti, se questa è una cosa che può farvi piacere. È una risposta? È una risposta sì, è una risposta, ecco perché poi infatti Civati era una scommessa, Civati oggi era uno dei nostri ospiti, abbiamo appena finito di fare un'iniziativa proprio sui luoghi comuni e lui è stato davvero brillante, con lui c'era anche un professore dell'Università di Padova che ha scritto un interessantissimo saggio, si chiama Cose da non credere, c'è un capitolo interamente dedicato proprio a come smontare i luoghi comuni, riguardo in particolare c'è all'immigrazione. Lasciateci, vogliamo due luoghi comuni a testa, il più bello che vi piace di più in assoluto è che poi ce lo smontate. Così? Allora, sono tanti, gli immigrati sono tantissimi, io questo ci trovo tantissimo, perché è quello secondo me da dove si parte sostanzialmente, l'ho scritto anche nell'intervista che tu mi quando tutti dicono ma siamo invasi dai immigrati, cioè in realtà non è così, perché gli immigrati, cioè su una percentuale, sono il 7,5% della popolazione totale, in realtà però, secondo degli studi che sono stati fatti da un ente europeo, in realtà la gente, non so, la percezione è come se ce ne sia il quadruplo, perché probabilmente, non so, per i fatti di cronaca, per come anche giocano gli stessi mass media o i partiti politici, se non stanno così. Bene, bene. E tu invece? Un altro sulla casa. Vai, ma non scusa. Io dalla mia esperienza, si dice che tutti i marocchini siano spacciatori, ma non è vero, perché un mio amico marocchino si rifornisce da un italiano, e lo posso dire. Sulle carte. Sulle carte. Allora, diciamo, vi possono seguire dove su www, com'è il sito? www.progre.eu Se cerchiamo di darci un tono ancora europeo, in prospettiva futura, naturalmente. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi e vi vogliamo bene perché ci seguite sempre. Grazie. Stiamo un po' strifando. Grazie. Grazie. Grazie.